Nella storia della democrazia moderna tutto ci potevamo immaginare, ma non che sia stato il Sudafrica ad aprire una strada che è straordinariamente attuale e che apre orizzonti inimmaginabili. Esatto, Nobile Tasso. Siamo di fronte a un fatto assolutamente inedito e che mette anche sotto accusa coloro che ritengono di avere i valori migliori del mondo. Quindi io sono qui a dire grazie Sudafrica. Perché? Perché oggi il Sudafrica porta Israele davanti al Tribunale internazionale dell'AIA con l'accusa di genocidio. E cioè quello che sta succedendo a Gaza, l'eccidio e lo sterminio dei civili palestinesi. Siamo arrivati ormai a circa 24 mila assassini, con oltre 10 mila dispersi. I feriti non si contano. Nella striscia di Gaza dove è difficile trovare l'acqua, è difficile trovare il cibo, dove sono stati bombardati gli ospedali, le scuole, le abitazioni civili, dove l'ONU dice che ormai è addirittura difficile vivere per i 2 milioni e 200 mila palestinesi che abitavano, che stanno nella striscia di Gaza. E ci è voluto il Sudafrica a dire che siamo di fronte a uno sterminio e che siamo di fronte a un genocidio. E che un genocidio non giustifica un altro genocidio. Questo è il punto su cui io credo che bisogna assolutamente riflettere. E il fatto che Israele continuamente perdura nell'ignorare l'ordinamento internazionale e la legalità internazionale, credo che sia un elemento sul cui il Sudafrica ha fatto bene, molto bene, ad intervenire. E se interviene il Sudafrica, come dice il nobile Tasso, ma tacciano gli Stati Uniti, o meglio, gli Stati Uniti permettono che succeda tutto questo. L'ignavia dell'Unione Europea che non sa né parlare né stare zitta, credo che in questo quadro il governo italiano certamente non si distingue. E allora grazie Sudafrica, grazie di aver compiuto la prima e vera operazione contro il genocidio in atto, che è quello di richiamare Israele alla legalità internazionale.